Un saluto a tutti gli amici social, sono Erika Ferrari in diretta dal Circo Harrison qui al Lido delle Nazioni nei Lidi Ferraresi. Stiamo lavorando con dei bravissimi artisti, oggi mi raccomando se siete nei paraggi dovete assolutamente venire a vedere lo spettacolo che sarà stasera alle 21. Nel frattempo sono qua con Sandy e Diana e Alice, ci stiamo preparando, ci stiamo allenando, ci stiamo preparando per nuovi show e spettacoli e quindi vi aspetto. Nel frattempo vorrei ringraziare Max Land Raceway Park per questi fantastici leggings che vanno benissimo anche per le attività circensi. A tutti, un super saluto e seguiteci con le dirette che faremo dai canali social del mio profilo, IG Coach Erika Ferrari della Scuola di Danza New Dance Club ASD e poi seguiteci anche sulle pagine Facebook perché stiamo per preparare per settimana prossima una azione, ovvero una camminata che si chiama Raccontaminazione. Vi aspettiamo per il momento dal Circo Harrison è tutto, ciao! Ciao!